Alissue, mi prendi un coltello che deve essere giù? No. Dai Alissue, dai. E anche un cucchiaio se proprio vuoi. E poi? E poi quando la dormire. Che carino, Michetta. Grazie. E' melato, bambolotto? Sì. Bambolotto. 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 Da parte che è femmina, magari. Ma smettila, deficiente, smettila. Mamma mia, che stessa? Quante robe, mamma. Bambolotto. E basta, quanto miele, mamma mia. Bambolotto. E' una parola che mi ha detto. Mamma mia, cioè. Mamma mia. Ma chi è sta cosa? Ma che è bambolotto? Ma che è bambolotto? Ma che è bambolotto? Bambolotto. Bambolotto, rendiamoci conto. Bambolino. Sì, è già meglio. Non sai neanche Dari, no. Cioè, bambolino ci sta, no? Io lo dico bambolino, no? Bambolotto, che è? Bambolotto sembra che... Eh... Mamma mia, Napoletano. Che vuoi? Ma che arte, arte? Mamma mia, Napoletano. Ma che arte, arte degli stai, questo Napoletano, Napoletano. Mamma mia, Napoletano. Sì, Mario, si è messi proprio male. Non vuoi capirlo mai. Ma cosa vuoi capire? Ma che cosa? Bambolotto. A parte che bambolotto non è che significa... Ecco, adesso comincia... Attenzione, a parte che bambolotto... Ma si deve giustificare. Comunque, ma se per te ti va bene, perché ti giustifichi? Perché vuol dire che hai la coscienza sporca? Ma se va bene a me, a voi, che cazzo, mi prega? Ma a te va bene di tutto. Esatto, anche prezzemolo. A te si può chiamare pure deficiente e basta che ti chiama. Bambolotto, ma pensa un po'. Il microfono di Luca. Sì? Sì, vieni. Buongiorno. Ma adesso sembrava Luca con la musica della donna, capisci? Ma davvero? Sì, mettiamo due calabine. Devo rimettere tutto il microfono. Non so se domenica non ci ha. Ma pensa a te che lavoro. Senza di essere libero, di poter esprimermi e dire quello che voglio, no? Ti giustifichi in continuazione. Siamo in una democrazia. Napolitano, stai proprio alla frutta, te lo dico. Siamo in una democrazia? Eh? Siamo o non siamo in una democrazia? Eh, cioè, allora ditelo. Bravo. Ecco. Cioè, non pensi che questa quantità... Ma il titolo purtroppo lo sai, cioè, da che punto... Ma allora, se io sono terrone, lui è terrorissimo proprio. A che centro? Cioè, è la patria della terrone. Allora, il terrore... La patria... Sentitelo! Ascoltatelo tutti, questo grazzista, sei un terrone, sei! A parte che il meridionale doc è napoletano.